Nuovo record di iscrizioni per la Round Eolian Race, quarta edizione della regata velica con partenze e arrivo a Capodorlando. Sono ben 45 gli equipaggi, già iscritti alla manifestazione in programma ogni anno a fine settembre, che si cimenteranno su un campo di regata assolutamente unico, quello dell'Arcipelago delle Olie. La regata con partenze e arrivo a Capodorlando prevede un percorso lungo 135 miglia che obbliga ogni imbarcazione al passaggio di ciascuna delle sette isole dell'Arcipelago come fosse una boa. E' proprio nei passaggi tra le varie isole, oltre alle differenti condizioni meteo presenti sull'area del basso tirreno, che si nascondono le insidie e le imprevedibilità della regata, dove ogni team ha la facoltà di scelta del senso orario o anti-orario con cui svolgere il percorso. Tra i favoriti di questa edizione, la cui partenza è fissata per giovedì 29 settembre alle ore 11, certamente Gioi Spartivento di Giuseppe Cascino, vincitrice della scorsa edizione, Deneb della sezione velica marina militare, Lisa R di Giovanni di Vincenzo, le palermitane Lup, Alvar e Quattro Gatti e gli esperti equipaggi etnei di Tetta e Ars Una, così come la calabrese Essenza e l'orlandina Freedom. Grande attesa anche per Comanci, Sagola, imbarcazione appena arrivata da Malta per gli armatori locali Battiston e Sorrentino. A partire da quest'anno la manifestazione sponsorizzata da Biper Banca e DT Socialize favorisce la partecipazione anche delle imbarcazioni meno performanti appartenenti alla categoria Gran Crociera, che si cimenteranno su un percorso ridotto di 65 miglia. La manifestazione sarà presentata ufficialmente nel corso di una conferenza stampa, in programma mercoledì 28 alle ore 11, presso il Marina di Capodorlando.